Un progetto rivolto ai più fragili con il sostegno della diocesi, perché? Perché c'è bisogno, la Caritas deve essere dove c'è bisogno e in questo caso veramente si presentano in certe situazioni delle necessità, necessità concrete che hanno avuto una risposta e questo ci rallegra tutti. Si intitola Lilt Arezzo per i fragili, il progetto ideato e realizzato in collaborazione con la Caritas Diocesana e la Lilt Lega Italiana Lotta e Tumori di Arezzo. Si tratta sostanzialmente di mettere a disposizione visite e prestazioni sanitarie. Alcuni medici professionisti, al momento due che hanno permesso l'avvio del progetto, si sono detti disponibili appunto a questo tipo di prestazioni per persone più fragili e in difficoltà. In maniera molto semplice cerchiamo di offrire prestazioni sanitarie attraverso la volontà di professionisti medici che desiderano mettersi al servizio della collettività, dei più fragili in questo senso, quindi è una cosa molto semplice. Il servizio è settimanale, sono tre giorni alla settimana in cui l'ambulatorio è aperto e vengono le persone ovviamente in base alle loro necessità e i nostri medici dicono loro che cosa fare, che cosa non fare, c'è anche un aiuto dal banco del farmaco quindi possiamo dar loro quello che serve, ovviamente soltanto certi tipi di farmaci comunque sia, voglio precisare che tutto è controllato da medici volontari e quindi i dettagli e ovviamente anche la modalità sono gestiti da loro in un modo molto puntuale. Vengono lì e appunto presentano le loro difficoltà, però in certi casi mancano delle prestazioni ecco perché questa richiesta che ho fatto è stata subito accolta e abbiamo trovato il professionista disponibile per quello che riguarda appunto cominciando dalla odontoiatria e appunto hanno annunciato la dermatologia, quindi sono già contento che un'altra persona risposta a questo appello.